Per poter raccontare il viaggio che è la cosa più importante di quando si va in giro è sicuramente fondamentale viverlo perché ci sono sempre più persone che pensano e vogliono raccontare qualcosa ma poi dopo non soffermandosi sulle più piccole inezie che sono poi dopo quelle più importanti si perdono i dettagli e di conseguenza fanno sempre un racconto lacunoso e poco profondo e veritiero dei posti e delle persone che visitano quindi per poter raccontare un posto bisogna in primis viverlo, se ti sei portato macchinetta fotografica o camera forse è meglio che le cominci a usare dopo un po' e fai prima amicizia e conosci le persone, capisci il posto e poi dopo cominci a fare il tuo racconto altrimenti è abbastanza fordiante e spesso alienante il racconto che spesse volte si vede quindi sono molto contento quando riesco a vedere un documentario, a ascoltare un ragazzo, una ragazza che raccontano i loro viaggi e lo fanno con un vissuto.